Ciao a tutti, oggi prepareremo i bocconcini di pollo con piselli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono pollo tagliato a pezzi ed infarinato, piselli surgelati, burro, olio, sale, pepe, pancetta a dadini, dado vegetale, latte, farina e scalogno. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e l'olio. Azioniamo il bimbi per 3 secondi a velocità 5. riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Azioniamo il bimbi per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla sulle lame. Mettiamo i bocconcini di pollo. chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti. 120 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungiamo adesso i piselli, il dado, il sale, il pepe, il latte, per chi è intollerante al latte può sostituirlo con l'acqua, il burro e la pancetta. ed azioniamo il bimbi per 20 minuti. Temperatura varoma, velocità anti-orario, velocità soft. I bocconcini sono pronti, andiamo a impiattare. Bocconcini di pollo con piselli. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!